Buongiorno a tutti, oggi Allegrone Immobiliare vi propone un affitto, un appartamento in zona stazione di pavia, il complesso è una cascina completamente ristrutturata, perfetto adesso diamo un'occhiata dell'esterno e adesso diamo un'occhiata al monolocale, il monolocale è un monolocale di 40 metri quadrati circa, nello stanzone abbiamo tutto, dalla cucina al letto al divano ed è illuminato da tre finestre, due le vediamo di là e poi la terza la vediamo dopo, il piano è un piano terra, comunque molto protetto perché non passa accanto nessuna strada, il bagno è questo, c'è la doccia, il tutto è stato ristrutturato nuovo a inizio del 2000, quindi è nuovo, i vetri sono vetri doppi, di spese condominali non ce ne sono, qua è tutto autonomo, ricordo che qui per arrivare in stazione a piedi ci si mette 5 minuti e per arrivare in centro, ovvero piazza della Minerva, anche lì 5 minuti quindi non bisogna dipendere dalla macchina, le linee del bus che servono la zona sono quella del 3, del 4, del 6, del 7 e del 5 che portano un po' in tutta Pavia le altre offerte su bilocalipavia.it